Siamo dietro le quinte della prima F Siete pronti per lo spettacolo? Sì Che cosa pensate? Piacerà o non piacerà? A voi Chi sarà il primo attore? Quello più... Salvo Salvo Dipende Dipende Buongiorno, ragazzi e ragazzi Siamo in Londra Il lato è buono Buongiorno Oh, guarda, Salvo Buongiorno Sì, è stato un museo, io sono un dancero, io sono 6 minuti, io sono soltanto no no 5 Scusate! Oh, no! Scusate, dove è il hotel? Ehm, let me think Ehm, let me think Ok Il hotel bello è turno a right e turno a left Oh, è molto bello! What's your name? My name is Sara, and you? My name is Flavia Good morning, how are you? I'm Sara, ok Sampo! Sampo! I have a shower Are you ok? Oh my god! Are you ok? Let's go to the hospital Don't worry I'm a guy Oh, oh, I'm Gangnam Style Hey, sexy lady Oh, 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 oh Hey, 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 hey I'm a girl, but I'm a girl I'm a girl I'm a girl I'm a girl Please, put on your security belt And don't use your mobile phone The security exits are over there And don't use your Ok Good morning, ladies and gentlemen We just arrived at Palermo The day is cold And the temperature is 25 degrees The captain Fabrizio Giannone And all the people of the board We welcome you Good morning 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 Because no anche noi facciamajuться così fare ci vado per te e in stanza la mia Una regia dell'amore mergo Oppan Gangnam Style